Ciao, sono Roberto di Screen Studio e oggi vi parlerò del nostro servizio di pulizia professionale dei dischi, utilizzando la tecnologia a ultrasuoni. Abbiamo scelto un disco particolarmente sporco, eccolo qua, vedete? E ora vi faccio sentire il suono in queste condizioni. Per prima cosa eseguiamo un pre-lavaggio con la famosa macchina manuale Knosti. In questo modo eliminiamo il grosso dello sporco. Adesso lo mettiamo nella Vinyl Cleaner di Audiodesk. Questa laverà il disco con liquido detergente unito all'efficacia degli ultrasuoni. Gli ultrasuoni penetrano nei solchi staccando lo sporco, molto più difficile da raggiungere utilizzando i metodi manuali. Inoltre, alla fine del ciclo di lavaggio, la macchina esegue l'asciugatura con aria forzata che permette di rimuovere qualsiasi residuo dalla superficie del disco. Ecco il risultato visivo della pulizia. Ora vi faccio sentire il suono del disco pulito. Scream Studio esegue la pulizia dei vostri dischi. Potete portarceli in negozio o prendere accordi per spedirceli in modo sicuro. Ciao, ti aspettiamo!